... Nuova manifestazione dei Notav che protestano contro il terzo valico. Dopo gli scontri della scorsa settimana, oggi si è svolto tutto pacificamente. La cronaca di Matteo Spicuglia. Nessuno scontro, nessuna tensione. Questa volta è un'azione simbolica. La polizia che segue a distanza i manifestanti che si limitano a rimuovere le recinzioni. Le immagini della scorsa settimana sono un ricordo. La protesta contro il terzo valico si sposta da Arquata a Pozzolo, in località Romana e Lotta. E l'area scelta per smaltire lo smarino, i detriti del tunnel di 27 km che collegherà Genova al Piemonte e alla pianura padana. Appuntamento a mezzogiorno, la marcia, poco dopo, alle 15.30, manifestazione già finita. Un altro blitz, sempre alle recinzioni, nel cantiere della zona di Serravalle, località Libarna. Il segnale di una protesta che andrà avanti anche nei prossimi mesi. Meno visibile del movimento della Valsusa, ma con la stessa piattaforma. Ambiente, costi, ragioni di opportunità. Il no ad un'opera ideata nel 91 è arrivata fino ad oggi tra inchieste, preventivi cresciuti a dismisura, previsioni di traffico sovrastimate. Il primo lotto dei lavori è in fase esecutiva, con alcuni terreni già a disposizione di Kociv, il consorzio controllato da Impregilo che eseguirà i lavori. Opera strategica per il governo. Darà lavoro a oltre 4.000 operai, ha detto il ministro dei trasporti Maurizio Lupi. La talpa inizierà a scavare a giugno. Grazie.